ciao bambini state bene sono sicura di sì come vedete anche io rimango in casa e con un po di pazienza presto ci vedremo oggi per tutti voi ho preparato una bellissima filastroca che si intitola filastroca dei colori primari voi vi ricordate quali sono i colori primari i colori primari sono rosso giallo e blu c'era una volta mago colore ottimo mago e grande pittore giallo dipinse il sole che brilla rosso il fuoco che scintilla blu fece il cielo e i mari aveva usato i colori primari cari bambini vi manderemo in casa queste due fotocoppie una fotocopia e la filastroca dei colori primari che potete insieme con i vostri genitori con i noni leggere e anche imparare a memoria la seconda fotocopia è il nostro mago colore potrete colorare e divertirvi aspettiamo le vostre fotografie i vostri video aspettiamo i messaggi vocali mi raccomando a presto ciao 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 ciao